barbara d'urso torna in tv ecco le parole che fanno ben sperare sul ritorno di una delle conduttrici più amate dal pubblico ma anche più discusse barbara d'urso nata il 7 maggio 1957 a napoli è una delle figure più conosciute e controverse della televisione italiana inizia la sua carriera negli anni 70 come attrice in diverse serie televisive e film guadagnando popolarità grazie al suo talento e alla sua presenza scenica negli anni 90 la d'urso passa alla conduzione televisiva diventando il volto di programmi di successo come domenica live e pomeriggio 5 la sua abilità nel trattare temi di attualità gossip e cronaca le consente di attrarre un vasto pubblico consolidando la sua posizione nel panorama mediatico oltre alla televisione barbara d'urso è anche autrice di libri e ha partecipato a diverse produzioni teatrali e cinematografiche dimostrando una grande versatilità artistica la sua carriera è caratterizzata da una continua evoluzione e adattamento alle tendenze del momento nonostante le critiche e le polemiche che spesso la circondano la d'urso continua a essere una figura centrale della televisione italiana mantenendo un forte legame con il suo pubblico che la rivuole sul piccolo schermo barbara d'urso non ha mai superato la decisione di mediaset barbara d'urso figura iconica della televisione italiana è stata assente dagli schermi per diversi mesi da mara venier barbara ha espresso profondo dolore e sgomento per il modo in cui è stata allontanata da mediaset dove ha lavorato per 23 anni di cui 16 in diretta quotidiana mi ha dato tanto quella azienda ma anche io ho dato tantissimo ho dato la vita e quindi il modo terribile con cui sono stata strappata senza che nessuno mi spiegasse mai il perché ha dichiarato la notizia del suo non ritorno in onda le è stata comunicata il 26 giugno alle 16 20 e a oggi nessuno le ha ancora spiegato il motivo il dolore è ancora qua piano piano passerà ha confessato barbara commossa sottolineando di non avere rimpianti nel suo lavoro sebbene ammetta che avrebbe potuto reagire di più quando le veniva chiesto di fare cose che non le piacevano barbara d'urso si prepara a tornare ecco chi lo sostiene barbara ha anche risposto alle critiche sul presunto trash delle sue trasmissioni affermando che spesso erano richieste della rete non scelte personali guardando al futuro barbara esprime il desiderio di tornare alla semplicità e alla vicinanza con il pubblico sia a teatro che in televisione io amo la semplicità amo che la gente dopo che mi vede a teatro mi aspetti fuori dicendomi barbara quando torni in tv io so che succederà io tornerò con la gente secondo lucio presta manager di molti personaggi importantissimi del mondo dello spettacolo italiano questo futuro potrebbe compiersi molto presto al festival della tv infatti presta ha dichiarato a breve tornerà il tempo di barbara troppo presto dire però su quale canale